È arrivato Francesco Figliuolo, che è un ministero straordinario per l'emergenza Covid, un generale, e ha usato questo linguaggio. Daremo fuoco a tutte le porveri, nuovo fiato alle trombe, svolta o perderemo tutto? Chiuderemo la partita. Allora, questo linguaggio corrisponde un'efficacia della campagna vaccinale dal suo punto di vista? Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, cioè con tutto il resto del paese. A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa. Non l'ho mai subito il fascino della divisa. Però se funziona. Beh, funziona su chi? È questo che non capisco. Cioè questo fascino per l'uomo forte. Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero le forze dell'ordine, che stavano dichiarando un arresto importante, sono i dittatori negli altri paesi. Io quando vedo un uomo in divisa un po' mi spavento sempre. Non è che mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia la categoria con cui si può responsabilizzare un paese. Ci spaventa di più. Però...